Luca Del Federico, è andata in archivio anche questa terza giornata degli internazionali d'Abruzzo prima però di proiettarci magari alla prossima, a quella di domani. Vediamo che cosa è successo. Dopo la diretta di oggi a pranzo abbiamo avuto, proprio adesso è terminato il match fra l'ex giocatore numero 21 al mondo il brasiliano Thomas Bellucci contro Argueglio, l'argentino, dove il giocatore brasiliano si è giudicato il match per 7-6-6-2 e poi abbiamo avuto la testa di serie numero uno Marterer che ha eliminato il giocatore portoghese Casta Elias al terzo per 6-7-6-3-6-3. Mentre per domani abbiamo veramente una giornata ricchissima e invito tutti gli sportivi appassionati a venire qui presso lo Sporting Club di Francavilla al mare dove i match inizieranno il mattino alle 10 e partiranno subito la testa di serie numero uno Maximilian Marterer contro il russo Alexei Vatutin. Federico, fare pronostici è sempre difficilissimo in qualsiasi campo, nel tennis forse ancora di più però ci sono tanti giovani anche italiani che possono far bene sicuramente. In finale chi vedi? Allora abbiamo tanti italiani in corsa per la finale e incrociamo le dita, la speranza è di averne almeno uno in finale ma l'augurio è uno dei tanti giocatori giovani che il tennis italiano sta sfornando, non vorrei fare nomi però dai ci auguriamo che sia uno dei giovani e ne sono tanti quindi abbiamo veramente tante chance. E sono tanti anche gli spettatori di questa terza edizione dell'Internazionale d'Abruzzo, vi soddisfa questo fatto? Ma assolutamente sì, ma non noi come organizzatori ma da parte sia dei giocatori che da parte anche degli addetti al settore è uno degli eventi di tennis in Italia, ovviamente escludendo Roma e il Foritalico, con più spettatori. Guarda Paolo, guardavo il giorno del primo round di Budapest che è un 2,50, il nostro è un 80 punti quindi con una grande differenza. Anche noi al primo turno, sempre lunedì, c'erano quattro volte gli spettatori a Francavilla rispetto a quelli di Budapest, quindi veramente un gran successo. E allora appuntamento a domani, quarta giornata degli Internazionali d'Abruzzo. Appuntamento a domani, vi aspettiamo, domani poi il 25 aprile, giornata di festa e quindi ci auguriamo di avere il tutto esaurito. Ed ora spazio alle interviste ad alcuni protagonisti di oggi. Con piacere abbiamo al nostro microfono Umberto Rianna, tecnico FIT, Federazione Italiana Tennis. Intanto chiedo al tecnico Umberto, queste prime tre giornate che Internazionali d'Abruzzo hai visto? Abbiamo visto, secondo me, delle giornate interessanti e anche entusiasmanti. A parte un inizio in cui il tempo non è stato proprio favorevole, però ora che si è assestato si vede del bel gioco e delle partite veramente molto combattute. Quello che ci fa più piacere è che i giovani, i giovani giovanissimi, emergenti nostri, stanno approfittando dell'opportunità che hanno avuto grazie alle wildcard per fare delle esperienze che sicuramente aiuteranno il loro processo di crescita. Dispiace un pochino per Donati che non è arrivato in condizioni e quindi è stato costretto all'abbandono ieri e soprattutto per Quinzi che evidentemente non erano nelle condizioni migliori per affrontare un impegno così importante. Per quel che riguarda il torneo in generale, non è chiaramente la prima volta che Umberto Rianna è qui presente. È un torneo, siamo alla terza edizione, che è cresciuto per esempio rispetto allo scorso anno dal punto di vista proprio qualitativo? Certo perché a parte che Marchesini ha ovviamente un'esperienza già comprovata, però ogni anno che passa dà sempre più di più l'opportunità di capire gli aspetti da migliorare e devo dire che farei fatica a trovare qualcosa che non funziona. Cioè soprattutto una presenza di pubblico che è difficile da trovare anche negli altri tornei. Dicevamo tecnico della federazione, in particolare responsabile del settore over 18. Che cosa significa e soprattutto qual è lo stato di salute di questi ragazzi? Significa che effettivamente è un momento di grandissimo entusiasmo e di grandi energie per il movimento del tennis italiano. Quindi io sono un privilegiato perché ho l'opportunità di vedere questa crescita sempre costante di questi giovani che si stanno mettendo in luce e che si stanno affermando in maniera sempre più continua. Quindi dobbiamo ringraziare l'esploat anche di Fabio che oltre ad aver compiuto un'impresa storica consente a questi giovani di avere un modello di ispirazione per poter avere sempre più entusiasmo e più energia. A proposito di Fabio Fognini è stato detto, non so se me lo puoi confermare, che è uno dei giocatori più veloci in assoluto, che si muove meglio sul campo. È così? Guarda Fabio ti confermo, non solo, ma ti dico anche e sono sicuro di non fare brutta figura, che secondo me Fabio è da tempo uno dei migliori giocatori al mondo a 360 gradi. e come bagaglio tecnico, eccetera. I risultati, a parte quest'ultima impresa veramente storica, non l'hanno sempre dimostrato, non è riuscito sempre a trovare questa continuità. Però non ci dimentichiamo che il signor Nadal ogni volta che gioca con lui, vede le streghe, ha gli incubi e ci ha perso già tre volte sulla sua superficie preferita. Quindi questo è uno che quando è in giornata è in grado di battere chiunque nel circuito, compreso questi mostri sacri. Ti occupi soltanto del settore maschile o anche allarghi il tuo sguardo anche a quello femminile? Non mi occupo solo del settore maschile, però è chiaro, è evidente che il settore femminile in questo momento dopo il boom della pennetta, di quella invincibile squadra che c'era fino a poco tempo fa, è fisiologicamente un pochino più in calo. Però sono sicuro che la federazione, anzi lo so che la federazione sta investendo tantissimo, quindi ci vorrà un po' di tempo, un po' di pazienza e tanto lavoro e sono sicuro che il tennis femminile ritornerà anche ai fasti di qualche anno fa. Al nostro microfono c'è Lorenzo Musetti, 17 anni, toscano, sei di Carrara? Sì esatto, sei di Carrara. E qui al torneo internazionale d'Abruzzo, stai andando avanti, complimenti, poi parleremo anche del tuo prossimo avversario che incontrerai domani. Hai vinto gli Australian Open 2019 categoria Junior e sei il numero uno nel ranking Juniors. Insomma, come biglietto di presentazione niente male. Sì, diciamo che quest'anno è iniziata molto bene, avevo fatto finale l'anno scorso agli US Open Junior, quindi ero riuscito a classificarmi bene. Poi dopo l'Australia sono passato ancora di più di grado, quindi adesso sì, a Roland Garros l'altro ragazzo che adesso è uno al mondo, gli scadranno tutti i punti visto che non giocherà Junior e allora andrò automaticamente numero uno al mondo, quindi sì, è una bella soddisfazione. Tutti o quasi gli occhi degli internazionali d'Abruzzo qui a Francavilla al mare sono su di te ovviamente, no? Oneri e Onore. No, sì, si spera... c'è tanto tifo, quindi mi fa molto piacere, fa sempre piacere avere tanto tifo e ti aiuta anche durante le partite. Ora speriamo nel tifo di domani che di sicuro servirà. Hai incontrato ed eliminato Donati, adesso però sulla tua strada c'è questo bosniaco che ha eliminato Quinzi, che lo scorso anno si è imposto proprio qui al torneo. Bricchi, che ci dici di questo? È un osso duro? Sì, sicuramente. Io non lo conosco bene perché sono nuovo in questo circuito, quindi non conosco tanti giocatori, però mi hanno detto che è un ottimo giocatore, quindi va preso con le pinze e niente. Domani vedremo, però sono fiducioso e mi sento di poter far bene. Internazionali d'Abruzzo a Francavilla al Mare, l'ambiente come l'hai trovato questo torneo, visto che tu viaggi molto? No, molto bello, molto... ti ripeto, il pubblico mi ha aiutato molto nelle due partite, c'è sempre tanta gente a vedere e questo credo che ai giocatori faccia piacere. Poi è un ambiente raccolto, però molto carino, con tante cose da fare, anche extra fuori dal campo, quindi mi sono trovato veramente bene e spero di ritornarci. Prima abbiamo intervistato il tecnico federale Umberto Rianna, che ha parlato di un movimento, soprattutto giovanile, di cui tu fai parte, azzurro, molto buono. Questo fa ben sperare, anche perché senza dimenticare quello che ha fatto Fabio Fognini a Monte Carlo. No, sì, sicuramente, quello che ha fatto Fabio è un'impresa italiana, ma anche storica, quindi è veramente una bella fonte di energia dove noi possiamo aggrapparci e tutto il movimento italiano si può aggrappare a questo successo di Fabio. Quindi io sono veramente contento per lui e spero che riesca a scavalcare questo muro dei top ten. Il tuo futuro come lo vedi? Spero roseo, però no, per adesso sono sulla strada giusta, quindi sono determinato e spero di andare più avanti possibile nella mia carriera. C'è Marco Moroni, 21 anni, romano, presente a questa terza edizione degli internazionali d'Abruzzo di Francavilla al mare. Diciamo subito una cosa, prima di parlare del tuo prossimo avversario che affronterai domani. si tratta di un tedesco. Hai avuto un po' la strada agevolata, no? Perché ci sono stati dei forfait che ti hanno agevolato, però, insomma, meglio così. Sì, diciamo, sono stato, come hai detto tu, fortunato, perché, bene, prima dovevo giocare contro De Griff, che è un giocatore sicuramente molto pericoloso, e poi si è ritirato per un problema al piede, successivamente è entrato uno spagnolo, Gianni Granogliersa, anche lui si è ritirato per un problema fisico, e alla fine è entrato Andrea Del Federico, che comunque... E' battuto in due set. Sì, è stato, diciamo, una partita sicuramente per lui molto speciale, perché comunque giocare nel campo centrale, entrare al secondo turno di un challenger, è stato molto speciale, e per me è anche stato divertente comunque l'ambiente, e poi è un ragazzo che comunque si allena, e questi giorni si sta allenando tantissimo, e sono contento. Domani c'è questo tedesco, Molleker, che ha eliminato Ocleppo, lo conosci questo giocatore, che gara ti aspetti? Sì, Rudolf è un ragazzo giovane, del 2000, gioca bene, è sicuramente un match molto duro, perché comunque lui gioca bene, è talentuoso, e io domani farò il possibile per metterlo in difficoltà, e sicuramente sarà una partita combattuta. Diciamo, l'unico vantaggio che magari posso... Tanti vantaggi sicuramente avremo l'un l'altro, però è da usare nei momenti giusti, perché come ho detto prima, è una partita abbastanza combattuta. Senti Gianmarco, il tennis azzurro, soprattutto maschile, dopo anche l'esplorata di Fabio Fognini, sta vivendo un buon momento, soprattutto a livello anche giovanile, della tua età. Prima abbiamo intervistato anche Musetti, Lorenzo, che ha 17 anni, tu ne hai 21. Insomma, questo fa ben sperare per il futuro. Sì, 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 in questo momento in Italia siamo pienissimi giocatori, tanti giovani da dietro, c'è Lorenzo, c'è Giulio Zeppieri, c'è Yannick Sinner, adesso non me ne vengono in mente altri, però ne abbiamo veramente tanti, poi tanti ragazzi, diciamo tra il 100 e il 200, abbiamo veramente tantissimi giocatori, e questo è una cosa buonissima per il nostro paese, sicuramente tutto quello che ha fatto la federazione, tutto quello che hanno fatto i vari maestri d'Italia, portare, diciamo, tanti ragazzi a questo livello, è davvero qualcosa di speciale, e non posso essere più contento per il nostro paese, come stiano andando le cose anche con le finals di Torino, sono davvero contentissimo. Mi dai un giudizio invece su Francavilla al mare, su questo torneo? È un torneo speciale, comunque è sempre pieno di gente, è il terzo anno che lo gioco, c'è sempre tanta gente a guardarlo, e poi è in Abruzzo, che comunque è un paese, cioè una regione abbastanza calorosa, tanti appassionati, diciamo, si respira tennis, si respira tanto tennis.